Musica 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 Non è che io sia questo pozzo di scienza Non è che io sia questo grande lettore Ma ieri sono andato in libreria Grazie 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 Sono andato in libreria Quindi solo per questo motivo Mi merito l'iscrizione al canale Iscrivetevi e lasciate like che è completamente gratuito Non ci sono andato per me sono andato per mio figlio Lui è un grande appassionato di dinosauri E' fissato con i dinosauri Mi ha detto papà andiamo a comprare Un libro nuovo Cosa ci capitano davanti? I libri del Milan E lì mio figlio mi fa papà Anche se siamo in pubblico Dobbiamo cantare la canzone Siamo noi i campioni dell'Italia Siamo noi Siamo noi Siamo noi Siamo noi Siamo noi Ma dietro In fondo Nascosto Perché Secondo me si vergognano anche a venderlo Mio figlio nota una cosa Vede il libro dell'Inter Era lì uno nascosto Imboscato Uno solo sfigato Ma la cosa più bella E' stata la reazione naturale Istintiva di mio figlio Gli ha fatto un'offesa che Non l'avevo sentita mai neanche io Squadra del bidone Quale squadra del bidone? Squadra del bidone La squadra del bidone Secondo me voleva dire i bidoni dell'immondizia Ma la squadra del bidone E' stata la cosa Una cosa magnifica Poi detta in pubblico Perché c'era gente Comunque vicino E' stata una cosa bellissima Ragazzi Un video simpatico Un video per divertire Che cazzo parliamo? Di calciomercato Come stanno facendo gli altri Spariamo bombe di mercato C'è la sosta delle nazionali Già parliamo del mercato di gennaio Meglio divertirsi un po' va Iscrivetevi al canale Vi voglio bene tutti E sempre forza di aula La squadra del bidone Che cazzo parliamo colere Grazie a tutti.